VITAMOZUO Gruppi Telegram fissati nel primo commento Non facciamo nada de nada, non facciamo niente di questo perché andiamo a utilizzare un metodo completamente in solo, ripeto non c'è bisogno di elenco partite, non c'è bisogno ovviamente anche delle attività del social club, soprattutto è sia per old gen e anche per next gen. L'unica differenza ragazzuoli che su next gen dovete avere la storia, ok ragazzuoli? Allora partiamo subito, vi lascio questa mappa qua sopra così da poter trovare tutti i peyote nell'online. Se invece ragazzuoli ovviamente volete utilizzare lo stesso mio peyote vi faccio vedere anche dove si trova, ok? Quindi questo è un metodo completamente nuovo, ok ragazzuoli? Completamente nuovo potete utilizzare quindi questo peyote si trova in questa posizione, se no in alternativa avete anche la mappa. Allora è molto semplice ragazzuoli senza timing soprattutto, senza timing ma veramente zero timing, ci avviciniamo al peyote, premiamo freccia destra, questa volta con tanta facilità dobbiamo semplicemente diventare un animale. Quindi modo veramente easy, ci ha già dato ovviamente gli rp, a questo punto ragazzuoli facciamo option, online, attività, avviattività, andiamo su create da rockstar, andiamo su missioni e andiamo sul lavoro da titano. Ok ragazzuoli, una volta arrivati nella lobby dobbiamo, quando ci dà la possibilità, semplicemente uscire dalla lobby. Appena rientriamo in sessione la prima cosa che dobbiamo fare, dobbiamo semplicemente cambiare di stile, ok? Quindi andiamo a cambiare di stile e aspettiamo il pallino giallo in basso a destra, dopodiché andiamo a chiudere l'applicazione. Ok ragazzuoli, una volta che si sarà riavviato ovviamente la storia, andiamo su option, online, gioca gt online e ce ne andiamo una sessione solo ad amici. I nostri rp che sono aumentati e andiamo a vedere anche se c'è il peyote. Adesso ve lo faccio rivedere un'altra volta, perciò guardate bene gli rp, ok? Questi sono i nostri rp. A questo punto rifacciamo la solita cosa, andiamo ovviamente a mangiare il peyote, a questo punto aspettiamo che diventa un animale, dovrebbe essere sempre lo stesso ma a noi, tanto non ci interessa. Andiamo a fare option, online, attività, avviattività, andiamo su create da rockstar, andiamo su missioni e andiamo sul lavoro da titano. Missione, ovviamente vi ho tagliato tutta la clip dalla parte del titano, la parte del ritorno perché ve lo ho fatto vedere prima. Verifichiamo subito gli rp, come vedete sono aumentati, ovviamente andiamo a verificare anche il peyote, il peyote è sempre qui. Quindi ragazzuoli questo è l'upper patch per gli rp con il peyote, anziché metterci 30 secondi ogni 5000 rp, ci metterete 2-3 minuti, però questo al momento è l'unico modo e soprattutto senza timing. Perciò ragazzuoli spiegate questo video, lasciate un bel like, condividete, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Bella! Grazie